Nell'albero! 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 Oddio! In questo video andremo a scoprire ben tre TikTok se sono veri o finti all'interno di Brokeven proprio così, sei pronta Violet? Siamo prontissima, facciamolo! Ok, perfetto, allora innanzitutto dobbiamo vedere il primo TikTok, ovvero questo qua. Allora, dobbiamo andare praticamente a scuola e dobbiamo andare a suonare la chitarra quindi andiamo subito a farlo dov'è la scuola? Non mi ricordo, era verso quella parte Non mi ricordo neanche io, però seguo te E poi cosa succede quando suoniamo la chitarra? Dovono arrivare tipo delle cose paurosine? Sì, dovrebbero arrivare delle cose paurosine proprio tanto paurosine Ho un po' paura delle cose paurosine, però ce la faccio Il problema dei TikTok Violet è che la maggior parte di questi TikTok potrebbero essere molto molto veritieri, quindi stai molto attento, ok? Quindi andiamo a suonare la chitarra, quindi mettiamo prendi la chitarra e vai a sederti nella tua sedia e poi inizi a suonarla su suonare e di premere F, ok? Bene! Ok! E vedi, e inizierai a suonarla quindi il primo script, ragazzi, ci siamo stiamo facendo tutto quello che sta dicendo praticamente questo tizio L'abbiamo attivato! Esatto, dopodiché che andiamo a scuola e prendiamo la chitarra e iniziamo a suonare dobbiamo andare all'interno della palestra della scuola e fare qualche tiro Ok, dobbiamo provare a giocare a basketball non so per quale motivo, ma dobbiamo farlo Ok, e dobbiamo fare il canestro io non so se la faccio a fare il canestro Proviamo a farlo, Violetti in qualche modo dovremmo riuscirci a fare Con il potere dell'amicizia potremmo anche riuscirci Oh, non lo so, spero ovviamente di sì Ok, bene, da questa parte Ci sei, Violet? Sono dietro di te! Ok, perfetto Allora, fai un po' di basket, ok? Prendi qua le palle Ok, sono pronta E provo a fare qualche tiro Ho preso la palla Ecco, ecco, perfetto Io sono uno scarsone a fare a giocare Oh! Yoinks! No, ho fatto tabellone Magari proviamo, proviamo Mamma mia Veramente, ragazzino riesco a fare un cavolo di canestro L'avevimilo morto, friends! Cacchio, ma è complicato fare canestro all'interno di questo gioco È proprio difficile Mamma mia Ragazzi, probabilmente molti di voi magari sono più bravi di noi C'erano quasi, l'avevo quasi fatto Ecco, vabbè Tanto la nostra missione la stiamo già facendo ovvero giocare a a a basketball Però Penso che serva soltanto questo Non penso ci abbiamo di sperare più di tanto Sì, spero ovviamente di sì Ma perché facciamo veramente schifo Esatto, porca miseria Mamma mia Guarda qua Oh! Niente È proprio zero Ma Oh, porca miseria Forse il segreto è non provarci Giusto Dai, ma non è vero Era dentro Niente, proprio facciamo schifo Facciamo proprio cacare Sì Va bene Andiamo avanti Oh, l'hai fatto, l'hai fatto L'ho fatto Oh, non l'ho visto Porca miseria Vabbè, voi da casa l'avrete sicuramente visto Ok E intanto che abbiamo appunto Giocato a fare Queste cose qua Dobbiamo seguire Le sue direzioni Esatto Ovvero Seguiamo quello che deve dirci Quindi Appunto siamo andati a scuola Abbiamo suonato la chitarra Abbiamo giocato a basket E dopodiché Lui Io vedo che tipo Lui era andato Verso questa parte Oh mio Dio Ma aspetta Ma lo leggi pure tu You'll be next Sì È un gioco di parole Era così prima Non lo so se era così Onestamente Credo di no Vabbè, comunque Ti dico in inglese Tipo Sarai il prossimo Sì Sarai il prossimo You'll be next Ok Allora Poi ci dice di salire Sopra questo coso Gigante bianco Ah, ho capito Quello che dobbiamo salire Va bene E poi dobbiamo dirigerci Verso l'ospedale Va bene, ok Dobbiamo salire qua sopra Hai capito? Violet Oh mamma mia Sembra basso Non sia semplice Dobbiamo riempirci Sì Ma è un arco tipo gigante Oh mio sciapoletto Ok, ok, ok Bene Ok, lo stiamo facendo Ottimo Oh mio Dio Guarda qua si vede tutto Brokeven Mamma mia Si vede tutto Roblox Praticamente Oh, è bellissimo Oh mamma mia Ok, vediamo un attimo Se c'è qualcosa Mettiti il Come si chiama? Il Come si chiama? Io ho preso il vino Sì, ce l'ho pure io Un attimo Di nulla, Violet No, miseria Cosa? Oddio mi ce l'ho fatto Dove ce l'ho fatto Oh mio Dio Che cosa è quel coso? Oh madonna santa Oh sciapolette Ma l'hai visto pure tu? Aspetta, è ancora lì Ancora lì Ancora lì No, sarà andato Dove è andato? No, non vuol dire Se è andato c'è una persona Lì l'ho visto Era una cosa nera Tipo Andiamo subito a mettere Andiamo subito a vedere Andiamo subito a controllare Violet Sbrigiamoci Certo No, 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 no No, no, no Violet Dobbiamo andare subito a controllare Porca miseria Assolutamente Ci sei? Vieni, vieni Sbrigati, sbrigati Magari era un altro giocatore Magari era un altro giocatore Sbrigati Ma Violet Siamo soli all'interno di questo server Che altri giocatori Sbrigati Ma potresti anche dire di sì Per consolarmi No, no, Violet Se troviamo qualcosa di strano È giusto che sia così Perché vuol dire che quel TikTok funziona Sbrigati, porca miseria Oh mamma mia Non ci voglio credere Ma io non voglio andare a guardare Se vuoi qualcosa di cattivo No, poi stava proprio sopra la Stava, Violet, hai visto? Stava proprio sopra la La fontana, porca miseria Sopra la fontana l'ho visto, sì Oh sciabolette Ecco Sembrava una figura nera Che stava all'inferno E poi è sparito Era qua, guarda, guarda Era qua sopra, porca miseria Sì Oppure anche più indietro Tipo verso questa parte Non lo so Comunque stava qua Era qua sicuro Oh mio Dio Va bene No, sei ancora qui attorno Andiamo via No, no, no Vediamo cosa fa Ah, vero Dobbiamo andare in ospedale adesso, Violet Dove ero all'ospedale? Ok Oh mio Dio Oh mio Dio, Violet Nell'albero 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 Oh mio Dio Aiuto 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 No 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 Era qua, l'hai visto? L'ho visto L'ho visto, ero come si affacciava Oddio, ti giuro che mi sembra Avesse una faccia Ma vero Oh mio Dio, io l'ho preso con la telecamera Non è possibile L'ho ripreso, l'ho ripreso io Oh mio Dio Ragazzi ma la cosa brutta è che siamo da soli in a server Guardate Guardate qua Aspetta Come si preme? Era Era esc Vedete che siamo da soli Sbrizer e Violet a Firenze Siamo soli, porca miseria Non c'è nessuno Ok, senti Violet Andiamo adesso verso l'ospedale, va bene? Va bene Continuiamo quello che stavamo facendo Magari L'hai mostrato tu quella, quell'altalena, vero? No Come no? No, non l'ho mostrato io, Sbrizer Come non l'hai mostrato tu? Scusami No, ero dietro di te Ma che stai dicendo? No, ti giuro, ti giuro Stavo solo camminando dietro di te Ero qui dietro di te Ragazzi Siamo ancora soli all'interno del server, eh Guardate Siamo soli No, è strana È stranissima questa cosa Ma perché? No, che paura Ma veramente Ci sono Esistono degli script così stupidi Che ti dicono di andare da un punto all'altro della mappa E facendo tutte queste cose in contemporanea Funzionano E si attivano Oh mio Dio Eh, quanto fai Sono dei passi questi qua E che cosa succede? Ma più andiamo avanti quindi più si vede quella cosa Non ho capito che dovrebbe succedere Ora Ora Nel TikTok c'è scritto Cioè Dicevo, ok Di andare Nell'ospedale, ok? Adesso dovrebbe accadere qualcosa all'interno dell'ospedale Ma Io non vedo nulla Tu vedi qualcosa? No, in questo momento Ti prego Stavi vicino Perché non voglio che mi succeda solo a me Tranquilla Tranquilla Non ci voglio credere Non ci voglio credere No, no Poteva arrivare qualcosa Tranquilla Tranquilla Per il momento Almeno Sull'ospedale non c'è niente Quindi possiamo andare al secondo TikTok Probabilmente forse il grosso già è arrivato O però tipo Il fatto che quello è comparso all'interno della fontana Poi all'interno dell'albero Eh sì Quindi Vabbè Dunque Il prossimo TikTok In teoria Dovrebbe essere questo Allora Dobbiamo andare Verso la fontana Dobbiamo cliccare tutti i pulsanti Che stanno attorno alla fontana Dovrebbero essere quattro Che strano il fatto che però ci sono dei pulsanti Nella fontana E poi dobbiamo andare in quest'altra zona E dobbiamo scrivere Eh Ah Eh Flash spawn E quella roba lì che ho visto Quindi Ok Questo è un script molto più fastidioso Però andiamo 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 Ok Allora prendiamo la macchina per sicurità Così andiamo veloci Ok Dai Violet Puoi stare tranquilla con me Ok Sono solamente È solamente un gioco Ok Violet Dai stai lì sopra Ma lo sai mi fanno super paura queste cose Stai guidando tu Fammi guidare a me Ok Sì per favore Ok Bene Allora Eccoci Allora Quindi Faccio vedere un attimo di nuovo il TikTok Quindi dobbiamo andare alla fontana Dobbiamo premere tutti i pulsanti E dopo che premiamo tutti i pulsanti Chi era quello che poi stava lì sopra C'era un tizio sopra la fontana Va bene Comunque E poi dobbiamo Ma adesso Sì adesso Adesso dobbiamo farlo Cosa Ah no Pensavo che adesso ci fosse qualcuno sulla fontana Ho detto che ho paura No 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 Tranquilla Ok Ok Premi lì tu Premi lì tu Sì sì 1 2 3 3 3 4 4 Ok Tornando le mani Tornando le mani Ti scivolano Tornando le mani ti scivolano dalla tastiera Sì ho tutte le mani sudatice Tranquilla 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 Allora Allora Adesso dobbiamo andare nella casa con la stregata che in teoria è quella lì in fondo Perfetto E ci possono essere fantasmi dentro Potrebbero vai Potrebbero Ok eccoci qua Quindi qual era lo script Fatemi vedere L'avevo letto per Tre secondi ma non ho visto nulla Allora è in teoria Ecco Ho un Scritto Ok l'ho scritto dovrei averlo scritto adesso Ora dovrebbero che cosa dovrebbe accadere Adesso Non lo so ma perché Io sono in tensione sto aspettando Di combattere Oh mio dio E se arriva di nuovo qualcosa con la faccia strana Sembra che non ci sia niente Non si ricordo che l'hai scritto giusto Sì 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 L'ho scritto giusto L'ho scritto giusto era uguale Ok ok allora magari questo qua non funziona Sì magari non funziona Sì 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 Va bene 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 Andiamo allora al terzo tiktok va bene Violet Dai vieni qua Eh va bene Sono contenta che non c'era niente qui Esatto questa volta hai visto non c'è nessuno che ci dà problemi Bene Allora andiamo al terzo tiktok Il terzo tiktok è questo qua Allora Dobbiamo prendere una casa a caso Prendiamo questa acqua verde E dopodiché dobbiamo sederci sul sofa E dovrebbe accadere una cosa molto strana Ah è un hack questo va bene Perfetto ok possiamo provare quest'hack forse Sembra molto divertente Sì questo sembra molto più divertente Violet ancora stai impaurita da quello che è successo prima Tranquilla Mi sto guardando attorno sperando di non vedere niente di strano Ma va Tu non puoi capire Non puoi capire Ma va vai Guarda adesso vedi stiamo facendo adesso la nostra casetta Tutto a posto Adesso accade quello che è Dovrebbe forse accadere Allora Bene Ok Siediti sopra questo sofa Ok Poi dobbiamo metterci Così premi eh Ok Non ti fa sdraiare Puoi farlo solo tu No puoi farlo solo tu Credo che sei No come Eh sì Non mi fa sdraiare Vabbè Allora provo Vabbè Prima farlo adesso comunque così Ok Io ti guardo Sì sì Allora tolgo la casa Sì Oh mio dio Ah Te lo sto facendo fare veramente Oh mio dio Non ci voglio credere Funziona Mettiti con lo skateboard Sì 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 Aspetta lo skateboard Aspetta aspetta Dove cacchio è Era qua da qualche parte Era Veicoli Ah veri veicoli Eccolo Wow Guarda com'è Guarda Wow Wow Con suonato tedesca Sembri molto cool Così effettivamente È molto divertente Aspetta posso aumentare anche la velocità Metto 35 No Ma è bellissimo Ok Va bene Sai cosa possiamo provare anche a fare un'altra cosa Metti una moto Metti una moto Una moto Metti una moto Ok Sì mettila 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 Dobbiamo vedere se Sì è questa Guarda che bella Ok sali su sali tu sali tu Ok salgo io Vai Ah Guarda Va bene Questa non era proprio paurosa Era un po' divertente Però va bene Ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto Mi raccomando iscrivetevi al canale Se non volete altri vedere Specialmente con me Vai All'interno di Roblox E noi ci vediamo in un prossimo e nuovissimo video Seguitemi anche nel secondo canale Svriserando Ma soprattutto su Instagram Svriser trattino basso Perché lì appunto Parliamo un sacco Dato questo ci si becca Ciao Ciao